buona aspetta la tagliamo un pezzo anche se perché c'è la tira di traverso la porta vito perché te non ti si sfondava ma mi si sfonda c'è sull'aria quella cosa qua porta il culo se non te lo portano via si è dietro l'aria va adesso tagli su mettila su uno va di andare giù in fondo sergio aspetta Sergio vai fino al sasso vai su sul sasso che è meglio no cadi dentro lì sergio aspetta 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 grazie 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 Grazie.